Salvo a tutti i giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video, come da consuetudine andiamo a fare un mega recap di Cyberstorm Access ovvero riacchiuderemo, tra molte virgolette, mesi e mesi di aggiornamenti in un unico video che non sarà per nulla a lungo prima di iniziare come sempre vi invito a iscrivervi al nostro canale per rimanere sempre, aggiornati con il mondo di Yugi grazie mille ragazzi, mi raccomando, è importante, link Fantasia Store per ordinare ovviamente il box o le bustine, quello che volete insomma il set su Fantasia Store, link affiliato in descrizione, grazie mille e andiamo a fare il mega recap, accesso Cyber Tempesta, andiamo a vedere subito il set molto importante andiamo a vedere i primi due Firewall, che sono in realtà abbastanza interessanti però non comprendono molto il mazzo allora, se questa carta viene mandata al cimitero, il Firewall Defenser, come materiale link per un mostro Cybers possiamo specialare un mostro Firewall dal deck, eccetto lui non possiamo specialare le mostre, il turno in cui attiviamo questo effetto, eccetto Cybers se uno o più mostri Firewall che controlliamo vengono distrutti all'effetto di una carta possiamo bandire invece questa carta, possiamo attivare un effetto una volta per tutto quindi è molto buono perché fondamentalmente se ci fai il link ti evoca altra roba e ti protegge altri mostri Firewall Phantom, se viene mandata al cimitero per evocazione, link per un mostro Cybers possiamo aggiungere una magia o trappola Sainet dal deck alla mano e poi scartare una carta possiamo bandirla dal graveyard durante l'enphase di questo turno per mischiare un mostro Cybers nel cimitero nel deck o in effetto una volta per turno andiamo poi a vedere i samurai super pesanti che sono il primo archetipo rinnovato e che sono veramente molto 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 interessanti e qui vi dico car trader per andare a prendere i samurai super pesanti perché fondamentalmente non stanno a nulla e avere una piccola base vecchia serve samurai bike, se non abbiamo maggio trappola nel cimitero possiamo scartarla per raggiungere un samurai super pesante al deck alla mano eccetto lui quindi effetto una volta per turno una volta per turno possiamo targettare un mostro macchina e controlliamo e gli aumentiamo il livello di 2 un grandino molto interessante samurai spy se non abbiamo maggio trappola nel graveyard la specialiamo dalla mano possiamo specializzarla dalla mano in ogni effetto possiamo evocarla specialmente in questa maniera una volta per turno se non abbiamo spello trappola nel graveyard ed effetto rapido possiamo tributarla per targettare una maggio trappola dell'avversario nel cimitero e settarla sul nostro terreno ma la bandiamo quando lascia il terreno freghiamo Evely sarebbe caruccia samurai soul gaia booster possiamo targettare un mostro d'archetipo che controlliamo e equipaggiamo questa carta dalla mano o terreno e quel mostro viene considerato come tuner se non abbiamo spello trappola nel cimitero quando l'abbiamo equipaggiata con questo effetto quando non abbiamo maggio trappole nel cimitero quando questa carta è stata equipaggiata al mostro grazie al proprio effetto possiamo specializzare questa carta quindi diciamo che è molto molto buona anche lei abbiamo il primo pendolo effetto pendolo nel samurai prodice waka usci se non abbiamo maggio trappola nel cimitero possiamo piazzare un mostro d'archetipo pendolo dal deck nella zona pendolo eccetto lui poi specialiamo questa carta così vi parte benissimo effetto mostro se non abbiamo magia o trappola nel cimitero possiamo scartare un mostro specialiamo un mostro d'archetipo dalla mano deck in posizione di difesa poi non possiamo specialare un mostro eccetto samurai super pesante per il resto di questo turno se questa carta viene utilizzata come materiale sincro e aggiunta all'extra deck scoperta possiamo piazzarla nella zona pendolo veramente carta fortissima veramente forte 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 e poi abbiamo world big bang key effetto pendolo se controlliamo un samurai super pesante possiamo aggiungere un samurai super pesante soul super heavy samurai soul dal deck alla mano un effetto una volta per turno effetto mostro se non abbiamo spell troppo al cimitero possiamo andare un samurai super pesante big bang key dalla mano o deck al cimitero se lo facciamo spacciamo questa carta dalla mano se questa carta viene utilizzata come materiale sincro e aggiunta a scoperta all'extra deck possiamo invece piazzarla nella zona pendolo fortissimo anche lei due mostri pendolo veramente fortissimi poi abbiamo dei pisti all'alubber falen of argilos ice jade ajiran ren e l'altra virtuosa e poi si va a passare ai mana dom andiamo a vedere il pisti all'alubber il nome di questa carta è diventa falen of albaz quando è sul terreno del cimitero se viene evocata normal o specialata possiamo scartare una carta targettare il mostro drago dell'avversario o nel suo cimitero ed attivare uno dei seguenti effetti mandare questa carta al cimitero se lo facciamo riprendiamo il controllo del mostro mandare questa carta al cimitero se lo facciamo specialiamo quel mostro dal cimitero sul nostro terreno ogni effetto una volta per turno diciamo che è l'alubber meno forte però con il fatto che ci sanno tanti pisti la forza potrebbe ritornare utile falen of argilos se c'è un mostro livello rank 2 link 2 livello 2 sul terreno possiamo specialarlo dalla mano su ogni terreno su entrambi i terreni possiamo specialarlo in questo modo una volta per turno i mostri link che appunto lo staccato non possono attivare i loro effetti durante il turno dell'avversario effetto rapido possiamo targettare mostro exige sul terreno e gli stacchiamo due materiali da esso quindi diciamo potrebbe essere una soluzione molto fastidiosa per chi utilizza carte alla pollusa eccetera perché può essere veramente fastidiosa gli blocchi gli effetti stacchi anche i materiali d'elixis poi ice jade possiamo scartare un altro mostro d'archetipo oppure un mostro acqua per specialare questa carta alla mano poi possiamo specialare un token di livello 300 quando quel token è nel nostro nella zona mostri main il giocatore che lo ha evocato non può specialare mostri elixadek eccetera mostri acqua possiamo utilizzare l'effetto una volta una volta per turno il nome di questa carta diventa ice jade senoth enion cradol quando equipaggiando con una carta magia con una carta equipaggiamento poi good in quem la virtuosa viene sempre considerata come una carta dogmatica è una carta despia se viene evocata possiamo andare un fall of albats una carta che lo menziona dal deck al cimitero se uno ha più carte lasciano l'extra deck possiamo targettare un fall of albats un mostro che lo menziona eccetera lei nel cimitero e specialarlo asso pure questa ste virtuose diventano sempre più banchate mamma mia qui dovrebbe teoricamente concludersi al momento la lord di albats ma abbiamo visto che ritornerà andiamo a vedere i manadom che arte veramente molto interessanti se questa carta è nella mano durante la my face effetto rapido possiamo targettare un manadom un mostro con 1500 di attacco e 2100 di difesa e controlliamo e lo spacchiamo se lo facciamo e la evochiamo specialmente fortissimo perché ogni qual volta si spaccano le carte in manadom si rievocano alte dal mazzo se viene evocata aggiungiamo una carta a mano nome dal deck alla mano eccetto lui mano da marles se controlliamo visas o un mostro 1500 2100 lo specialiamo dalla mano possiamo specialare in questo modo una volta per turno se viene distrutto in battaglia l'effetto di una carta possiamo specialare un altro di lui dal deck in più durante la battle phase il turno in questo effetto si è attivato i mostri sincro guadagnano 500 di attacco i mostri sincro che controlliamo ma una domic che praticamente fa la stessa cosa solo che aumentiamo il livello del mostro special alto a questo effetto di 2 il che è buono per farci sincro livello 8 ok abbiamo nemureglia che li abbiamo trattati ampiamente si vanno a rimuovere le carte le rimuove coperto una carta per ogni 3 che ci abbiamo rimosso quindi il mazzo è veramente fortissimo l'abbiamo visto tante volte quindi non mi ci soffermo troppo e sono forti pure lì e mikanko se viene evocata aggiungiamo una carta pure lì dal deck alla mano eccetto una carta magia rapida possiamo targettare una magia rapida d'archetimo del cimitero speciale al mostro Xyz che la menziona all'ex deck utilizzando questa carta come materiale se lo facciamo attacchiamo il target al mostro evocato come materiale addizionale e viene trattata ovviamente come un'evocazione Xyz furide orb mikanko se questa carta non è equipaggiata con una carta equipaggiamento non prendiamo danno da battaglia che la coinvolgono se lo è invece non può essere distrutta in battaglia e l'opposi prende i danni da battaglia che la coinvolgono l'avversario non può targettare carte mikanko che controlliamo con gli effetti delle carte finché controlliamo una carta equipaggiamento se questa carta viene equipaggiata con una carta equipaggiamento possiamo aggiungere una carta trappola mikanko dal deck alla mano diciamo che lei fa parecchie fa parecchie cose abbiamo i due teller knight poi l'infini track e l'amazement viene sempre considerata come costeller se viene evocata targettiamo carte sul terreno fino al numero di mostri luce oscurità e Xyz e controlliamole e spacchiamo se un mostro teller knight è un mostro costeller uno o più mostri oltre a lui vengono specialati sul terreno possiamo specialare questa carta dal cimitero e in più non possiamo dichiarare attacchi in questo turno per il resto di questo turno eccetto con mostri Xyz teller knight lira se un teller knight e un costeller oltre a lei vengono evocati normal sul terreno possiamo specialarla dalla mano se viene evocata possiamo aggiungere una carta immaginata teller knight dal deck alla mano lei è sempre considerata anche costeller fortissima e infine se uno più mostri terra macchina vengono tributati o banditi scoperti possiamo specialare questa carta dal cimitero o dalla mano un po' alla diavolos ma la bandiamo quando lascia il terreno possiamo utilizzare ogni effetto una volta per turno se un mostro Xyz il cui il tipo originale è macchina a questa carta come materiale guadagna il seguente effetto tutti i mostri dell'avversario cambiano la posizione e perdono mille di difesa vanno in posizione di difesa e perdono mille di difesa amazement arlecchino se controlliamo un amazement possiamo specialarlo dalla mano poi aggiungiamo un amazement family faces dal deck al cimitero alla mano durante il turno dell'avversario effettorabile possiamo draghettare un altro mostro un effetto del terreno non mischiare questa carta al mazzo e specialare un amazement administrator all'archino dal deck e poi cambiamo l'attacco del mostro a zero il problema è che non gli nega gli effetti abbiamo le sword emperor che è fortissimo perché rimischia tutte le carte dai cimiteri rimosse nel mazzo veramente uno dei mostri uno dei mostri spirit veramente più forti abbiamo il duplex l'arvest angel of doom molto forte con i corni del paradiso un altro mostro spirit e al momento facciamo il yukai va bene può essere evocato tributando un mostro che sta evocando normal se questa carta viene normalata o flippata attiva il secondo effetto l'avversario manda qualsiasi numero di carte che lo controlla dal cimitero se lo fa ogni giocatore pesca carte uguale al numero delle carte mandato di solito non lo fa mai durante la inface meschiamo tutte le carte che sono bandite nel terreno e nel cimitero nel mazzo e poi questa qui viene rimbalzata in mano full active duplex mi raccomando cambiategli il nome possiamo bandire due mostri link dal cimitero per specialarlo dalla mano se viene mandato al cimitero possiamo targettare un mostro cybers che controlliamo e guadagna mille di attacco i mostri linkati possono fare due attacchi durante ogni battle phase quindi i nostri mostri linkati molto forti come chi ha harvest angel of moon effetto pendolo durante la main phase possiamo distruggere questa carta per raggiungere un corno nero del paradiso dal deck alla mano effetto mostro se viene evocata uno armolo o pendolo possiamo aggiungere un corno del paradiso dal deck alla mano se viene tributata possiamo piazzarla nella zona pendolo quindi fondamentalmente norma al più rendi il corno del paradiso effetto corno del paradiso tributi lui poi lui ti va nella zona pendolo non male stakitama non può essere specialata rimbalza in mano in end phase se viene normalata vabbè se viene normalata la facciamo ribalzare in mano possiamo attivare uno dei seguenti effetti una volta per turno possiamo rivelare questa carta dalla mano e immediatamente dopo che l'abbiamo fatto possiamo normalare il mostro spirito in più se questa carta viene tributata da reggettiamo il mostro spirito al cimitero lo aggiungiamo alla mano chiedo veramente scusa tutti i mostri scoperti sul terreno diventano fuoco se questa carta è nel cimitero l'avversario è un mostro fuoco sul terreno oppure nel cimitero possiamo specialare questa carta possiamo specialare questa carta ok forse con l'infernomero potrebbe essere interessante ok abbiamo il ring of worm che l'ho visto giocare tantissimo pendolo moon wannabe bunny e poi dopo andremo a vedere queste qui se questa carta se c'è un mostro non effetto scoperto sul terreno possiamo specialare questa carta dalla mano durante il turno durante il turno in cui abbiamo evocato un mostro sincro possiamo bandire questa carta dal cimitero per specialare un underdapple token di livello 2 se questo token viene utilizzato come materiale sincro può essere trattato come tuner non è male questa carta non è male e mamma mia che effetto lungo pendolo moon effetto pendolo durante la main face possiamo aggiungere una carta scoperta pendolum dall'exadeck alla mano pendolum e pendolum monster dall'exadeck alla mano e poi spacchiamo questa carta effetto mostro se abbiamo due carte nella zona pendolo possiamo aggiungere fino a due mostri pendolo scoperti dall'exadeck alla mano con i livelli così nella scala pendolo dei mostri che abbiamo nella zona pendolo e in più per il resto di questo turno a meno che non evochiamo pendolo non possiamo attivare gli effetti dei mostri gli effetti delle carte delle zone pendolo sono negati quindi fondamentalmente dobbiamo evocare pendolo api meravigliosa durante la main face possiamo andare questa carta dalla mano o terreno al civitero per scavare la prima carta del deck uguale le prime carte del deck uguale al numero di zone non occupate le zone ma oggi è troppo dell'avversario se la facciamo possiamo settare una carta trappola scavata ma la mandiamo al cimitero durante la prossima main face piazziamo il resto in fondo al mazzo vabbè carta riempitiva non credo abbia troppo gioco una volta per catena quando un effetto di un mostro viene attivato eccetto il suo effetto rapido possiamo piazzare un counter su un mostro i mostri con questo counter non può essere sessuto in battaglia una volta per turno l'effetto rapido targettiamo un mostro con questo counter bandiamo sia quel mostro che questa carta e fino alla fine della stand by fate del prossimo turno cyber sage di subworm e poi abbiamo albion vicius astrood il beat trooper e il dual avatar possiamo ritualare questa carta con signet e ritual durante il nome face possiamo fusionare un mostro fusione e lextra deck bandendo i materiali menzionati sul nostro terreno o cimitero includendo un mostro cyber se viene mandato al cimitero come materiale sincro targettiamo un mostro cyber e una carta maggiore rituale nel cimitero e aggiungendo la mano disabform un cyber se il rituale fusione sincro e season link e un cyber durante il nome face possiamo specialare un mostro cyber dalla mano poi possiamo far diventare il livello di questa carta come il livello di quel mostro quando l'avversario attiva l'effetto della magia o un trappola o un loro effetto e controlliamo link 4 superiore cyber effetto rapido possiamo bandire questa carta dal terreno al cimitero per negare l'attivazione per negare l'attivazione non male non male non male poi deve avere sempre un mostro grosso albion eccolo qui non può essere utilizzata come materiale fusione l'avversario non può targettare questa carta con gli effetti delle carte con gli effetti una volta per turno vuole un mostro luce incantatore oltre al caduto di albaz durante il turno dell'avversario effetto rapido targettiamo due mostri che sono nel cimitero li specialiamo entrambi uno su ogni terreno se questa carta è nel cimitero possiamo tributare 4 mostri nel 4 mostri nella zona mostri extra e ogni giocatore cioè nella zona mostri extra e nella zona mostri centrale di ogni giocatore e poi la specialiamo quante pippe mentali per evocare manco io quando vedo una carta nuova visus astro molto facile perché può essere evocato bandendo le carte menzionate dal terreno il cimitero se viene evocata specialmente targettiamo l'altro mostro sul terreno lo spacchiamo e se lo facciamo guadagna attacco uguale alla metà dell'attacco del mostro distrutto attacco o difesa in caso è più alto e non può essere rotto in battaglia grande carta perché comunque c'è un grossissimo pitone in più beatrooper non può essere special non possiamo specialare mostri eccetto mostri insetti bene possiamo utilizzare le secondi effetti una volta per turn se viene evocata special possiamo aggiungere un beatrooper dal deck alla mano se uno più mostri insetti vengono banditi scoperti targettiamo un mostro bandito beatrooper e lo evochiamo e poi abbiamo il dual avatar guadagna seguenti effetti in base ai nomi originali dei materiali fusione utilizzati se abbiamo utilizzato il dual avatar conghio se un dual avatar combatte questa catta guadagna 3000 durante il calcolo di danni se abbiamo utilizzato un mitsujaku una volta per turno dell'avversario effetto rapido possiamo targettare una carta sul terreno e la bandiamo se questa carta evocata tramite evoluzione viene distrutta possiamo specialare un yui e un dual avatar kokoku dal deck e se lo faccio non posso essere distrutto in battaglia dagli effetti in questo turno e ok andiamo a vedere i samurai super pesanti e poi i bestial e poi i despian e poi il manalom e poi il chaos angel mamma mia quante carte overhaul masura un tuner più un mostro non tuner questa carta può attaccare quando è scoperta in difesa se lo fa applichiamo la difesa per il calcolo dei danni se uno più mostri d'archetipo che controlliamo vengono distrutti in battaglia effetti una carta possiamo distruggere un samurai super pesante che controlliamo invece di quelle carte lì una volta per turno se l'avversario attiva una maggiore una trappola uno effetto possiamo pescare carte finché non abbiamo tre in mano grande shanao effetto pendolo quando un mostro dell'avversario dichiarano l'attacco possiamo specialare questa carta poi se non abbiamo maggior trappola nel cimitero cambiamo l'attacco del mostro a zero gli indeghiamo gli effetti effetto mostro se questa carta può attaccare quando è in difesa e applichiamo la difesa una volta per turno durante la battle phase continuiamo questo mostro evocato sincro effetto rapido possiamo specialare un mostro d'archetipo dal cimitero scoperto la zona maggiore trappola poi appiazziamo questa carta nella zona pendolo piscial di spater generico materiali generici a parte che vuole un tuner non drago un non tuner drago possiamo targettare un mostro bandito luce oscurità lo specialiamo quando l'avversario attiva l'effetto di un mostro effetto rapido possiamo targettare una carta bandita la facciamo tornare nel mazzo e poi se lo facciamo se noi siamo il paese la carta era del proprietario spacchiamo quel mostro altrimenti neghiamo l'effetto quindi onneghi o spacchi se rimbalziamo una carta dell'oppo gliela spacchi se rimbalziamo una carta nostra gliela neghiamo despian lulu wallet una volta per turno se uno ha più carta ce la lascio nell'ex deck possiamo far prendere tutti i mostri che controlliamo 500 di attacco poi possiamo negare l'effetto di una carta scoperta sul terreno fino alla fine del turno durante la inface questa carta è al cimitero perché ci è stata mandata in questo turno possiamo specialare un mostro luce incantatore dalla mano un deck il cui attacco è uguale alla difesa ok quindi già sappiamo chissà che andremo a prendere madadon prime heart questa carta può attaccare il numero di volte in ogni battle phase qual è il numero di mostri tunnel utilizzate come materiale se questa carta viene evocata sincrono utilizzando un madadon tuner non può essere targettata dagli effetti dell'avversario se questa carta evocata sincrono lascia il terreno a caso dell'avversario possiamo specialare un viso star frost oppure un mostro che 1500 dal cimitero oppure tra i mostri banditi chaos angel per l'evocazione sincrono di questa carta possiamo trattare un mostro luce o un mostro oscurità che controlliamo come un mostro tuner se questa carta viene specialata targettiamo una carta sul terreno e la bandiamo questa carta guadagna i seguenti effetti in base agli attributi originali utilizzati per evocarla luce i mostri sincroni controlli sono immuni agli effetti attivati dei mostri avversari dark i nostri non possono essere distrutti in battaglia mi stanno vedendo le prime allucinazioni poi abbiamo i teller knight e il virtual world e andiamo a vederci poi tutti i link c'è anche l'esforce che non è per nulla mano male se questa carta viene evocata exis possiamo targettare un teller knight e oppure una carta costella del cimitero aggiungerla alla mano possiamo bandire un teller knight o un costella dalla mano o deck per staccare materiale da questa carta questo effetto diventa l'effetto del mostro bandito che si attiva quando viene evocato normalmente quindi diciamo molto buono come carta virtual world tiger 2 mostri velo 9 questa carta va dando i seguenti effetti in base al numero di virtual world gate che controlliamo 2 o più questa carta attacca diretto 4 questa carta è uno degli effetti attivati delle carte eccetto degli effetti virtual world una volta per turno effetto rapido possiamo staccare materiale questa carta per targettare un mostro che controlliamo un mostro sul terreno con un differente attributo e tipo e leghiamo entrambi gli effetti firewall singularity link 6 3 o più mostri effetto rapido possiamo targettare carte che controllano l'avversario del cimitero fino al numero di differenti tipi di mostri rituale fusione synchro exis che controlliamo oppure nel cimitero li facciamo ritornare in mano e se lo facciamo guadagnare in questa carta guadagnare 500 di attacco per ogni carta fatta a ritornare se uno più mostro puntato da questa carta viene distrutta in battaglia e mandato al cimitero possiamo targettare un cybers nel cimitero e lo specialiamo diciamo un mostro gigante un esimo mostro gigante per il masso protect talker la versione non può targettare mostri link 4 superiore e controlliamo con gli effetti delle carte non possono essere distrutte in battaglia se controlliamo link fireball effetto rapido possiamo dire un qualsiasi numero di mostri link al cimitero il cui totale del rating sia esattamente 3 specialiamo questa carta al cimitero ma la bandiamo quando lascia il terreno gran solfacior culia due mostri incluso un pendolo guadagna 100 per ogni mostro pendolo nella zona extra deck scoperto le attivazioni dei mostri pendolo che questa carta punta non possono essere negate una volta opportuno per si attiva una carta un effetto possiamo specialare un solfacior con un differente scala pendolo dalle dalle carte nella zona pendolo che controlliamo che questa carta punta e se lo facciamo teniamo l'attivazione e poi possiamo aggiungere il solfacior pendolo con una scala pendolo con even pendolo che va bene non mi ricordo se era più diversa comunque dall'extra deck scoperto questa carta era complicatissima pure quando l'ho letta la prima volta mi ero impicciato S-Force Netschaser ogni mostro nella stessa colonna di un mostro S-Force che controlliamo non può targettare mostri nella stessa colonna per gli attacchi durante la infese effettua possiamo targettare un S-Force che controlliamo non meschiamo nel mazzo poi possiamo specialare un mostro bandito S-Force possiamo utilizzare un effetto un'olta per turno questa carta comunque era molto forte per l'archetipo e poi andiamo con le magie quindi Sainet rollbacks war soul tribligate roar da terreno abbiamo cash t la extra e poi partiamo con il madon Sainet targettiamo un mostro bandito cyber se lo specialiamo durante la main phase abbiamo 2000 o meno lp possiamo bandire questa carta al cimitero per targettare due cyber banditi aggiungerli la mano se controlliamo un mostro sincro targettiamo una carta sul terreno entrambi i cimiteri e la bandiamo se l'avversario controlla un mostro rituale fusione sincro e xizol link possiamo bandire un mostro sincro dal cimitero e aggiungere questa carta alla mano tribligate error se controlliamo un mostro link mandiamo un tribligate dal deck o extra deck al cimitero poi targettiamo un mostro con l'effetto sul terreno e applichiamo i seguenti effetti in base al tipo di carta mandata se era un mostro cambiamo l'attacco a zero magia ne chiamiamo gli effetti trappola lo rimbalziamo in mano non male the boundless open land se l'avversario evoca tramite rituale fusione sincro e xizol link uno più mostri possiamo attivare uno dei seguenti effetti ma uno solo per ogni turno aggiungere un fan off al balzo un mostro che lo menziona dalla mano oppure specialare un fan off al balzo un mostro che lo menziona dalla mano cash l'extra se uno più mostri cash t-rex se controlliamo e vengono distrutti in battaglia di effetti una carta bandiamo un visa star forse dalla mano deck otterrendo se lo facciamo specialiamo un vicious astro dall'ex deck ignorando le condizioni e le vocazioni se questa carta viene bandita targettiamo un mostro bandito visa star forse lo aggiungiamo la mano e andiamo con i manadom questi sono gli addini numereri ok li avevamo già visti queste sono le carte pure ok manadom imagining riveliamo manadom un mostro visa star forse nella mano peschiamo due carte poi facciamo ritornare una carta alla mano in fondo al deck possiamo bandire passata al cimitero tra che tale mostro controlliamo 1500 può essere considerato tuner fino alla fine dell'emphase app session targettiamo un mostro che controlliamo lo spacchiamo se lo facciamo aggiungiamo una calarium che è la carta terreno dal deck alla mano oppure se controlliamo se la controlliamo possiamo aggiungere un mando magia o trappola alla mano eccetto questa possiamo bandire questa carta dal cimitero speciale un vita star posto un mostro 1500 2100 dalla mano ed eccoci qui con la terreno quando si risolve aggiungiamo mano dom viso star forse al deck alla mano i mostri luce controlliamo per ogni tunnel che controlliamo nel cimitero sta cosa può essere imbarazzante perché ci toglie il fatto del 1500 di attacco quindi non è non è bellissima sta cosa se uno più mostri tunnel scoperti e controlliamo l'angoli sotto in battaglia l'effetto una carta possiamo targettare uno di quei mostri speciale gli altri quest'altro effetto è molto buono abbiamo le carte pure lì il libro manzer che manco mi voglio guardare costella la net costella era fortissima la carta sol il gunkan che faceva da super addino molto buono e poi abbiamo questa carta che è qualcosa di veramente grosso pure lì sleepy memory applichiamo questo effetto poi scartiamo una carta dalla mano e se lo facciamo speciale a mostri all'uno pure il deck una volta applicato la prossima bottle phase no il prossimo danno da affetto da battaglia che prendiamo in questo turno diventa zero se mostro pure lì a questa carta come materiale guarda il secondo effetto una volta per turno durante il turno stai mai fete all'avversario peschiamo un dance of the mccank fascinating bird li mostri equipaggiando un paese rotto in battaglia una volta bene effetto una volta per turno se mostro mccank combatte alla fine del damage possiamo targettare una carta sul terreno e lo imbalziamo se questa carta è nel cimitero possiamo targettare un mostro mccank o nel cimitero specialarlo se lo facciamo equipaggiamo questa carta e lo bandiamo quando lascio il terreno telanite costellar quando si risolve specialiamo un telanite un costellar dalla mano cimitero possiamo targettare uno dei due costellar un telanite exis e controlliamo specialiamo dall'exadec un telanite un costellar con un differente rank da quel mostro ma utilizzando utilizzandoli come materiale viene trattata come un'evocazione exis ogni effetto una volta per turno carta veramente enorme sinfonia solfacord applichiamo gli effetti in sequenza in base al numero di carte solfacord pendolo con nomi differenti e l'exadec tre o più tutti i solfacord che controlliamo con egna 300 pari in base allo scala pendolo fino a fine del turno 5 o più distruggiamo una carta che l'avversione controlla poi se abbiamo carte diverse nella pendolo scale nella nostra pendolo peschiamo una carta possiamo specialare un mostro gran solo facendo l'extra deck sono molto complicati vabbè questa non possiamo attivare effetti dalla mano peschiamo due facciamo due normal tanto di cappello la bandiamo dal cimitero scartiamo una di essa e in questo turno l'avversione non può attivare niente risposta quando evochiamo normal questa carta non c'ha senza una delle carte più forti che abbiano mai creato per tot deck insomma poi abbiamo un ton ton e finiamo con le trappole tanto ora le andiamo tutte a vedere mazza quante sono e mamma mia me le ricordavo molte di meno targetiamo un mostro scoperto sul terreno se il suo attacco corrente e difesa sono più alti dei oppure il livello sono più alti del nelle valutazioni originale possiamo farle ritornare come prima paghiamo molti pdlp massimo 1000 durante la mfis l'avversario se le lp dell'avversario sono uguali se no se le lp sono uguali a quelli dell'avversario possiamo settare mamma mia carta inutile ma ha fatto pure perdere tempo selet circuit targetiamo firewall link controlliamo specialiamo qualsiasi numero di mostri dal cimitero su entrambi i terreni fino alla classificazione link poi se abbiamo no uno del cimitero su entrambi i terreni che sono linkati se abbiamo 2000 p o meno possiamo andare al cimitero per far ritornare un firewall link dal cimitero all'extra deck poi possiamo specialare dall'extra deck poi possiamo specialarlo dall'extra deck quindi quando aumenta mente lo rimbalzi e lo rievochi blazing brand king scegliamo mostro fusione controlliamo e menzionale il caduto di albats come materiale neghiamo l'effetto di tutte le altre carte scoperte attualmente sul terreno fino alla fine del turno durante la inface uno o più mostri di fusione vengono mandati al cimitero in questo turno possiamo aggiungere questa carta dal cimitero alla mano è vero è il super negate devastante branded etude durante ogni turno il turno di ogni giocatore possiamo immediatamente dopo questo effetto si è risolto evocare tramite sincronizzazione utilizzando il mostro che controlliamo come materiale includendo un mostro drago possiamo utilizzare un effetto not per turno quando noi controlliamo un mostro bestial ogni mostro viene mandato al cimitero dell'avversario perché è stato tributato per un'evocazione rituale o utilizzato come un materiale viene invece bandito materiale per infusione exise sincro eccetera mandatom break heart raggettiamo un tunnel un sincro un mostro sincro al cimitero specialiamolo poi se abbiamo specialato un mostro luce con questo effetto possiamo spaccare un mostro che l'avversario controlla con attacco uguale o inferiore all'attacco del mostro se un visa star fosse uno più mostro 1500 e 2007 controlliamo vengono stando per essere distrutti in battaglia l'effetto della carta possiamo invece bandire questa mandatom reframing il counter quando inattivano maggior troppo l'effetto di un mostro mentre controlliamo un mostro sincro negiamo l'attivazione poi se abbiamo un visa star frost il mostro 1500 e 1200 sul terreno del cimitero possiamo spaccare la carta negata possiamo bandire questa carta al cimitero per targhettare 3 malano al cimitero e farli tornare nel deck furbo of mounted cushion se un vicious astrode sul terreno targhettiamo una carta sul terreno la spacchiamo poi se il nome delle carta originale distrutta è un vicious astrode possiamo specialare il mostro bandito viso star forse altrimenti incrementiamo l'attacco del vicious di 1500 reinforce per gli sqa targettiamo uno d'archetipo che controlliamo guadagna 1500 di attacco in difesa ed è muo negli effetti dei mostri avversari la prossima volta che sta per essere distrutta in battaglia non viene distrutto possiamo andare questa carta dal cimitero per targettare un rescue waste la carta magia rescue waste il cimitero e settarla sul terreno molto molto forte dinomorfia intact è questa fortissima quando mostro attiva il suo effetto controlliamo dinomorfia paghiamo metà dei nostri lp ogni danno da battaglia che prenderemo per il resto del turno viene diventa metà dei nostri lp e se lo facciamo neghiamo l'attivazione poi se lo facciamo spacchiamo il mostro durante il calcolo di danni se abbiamo 2000 o meno lp e stiamo prendendo la battaglia possiamo andare invece questa carta al cimitero e non prendiamo la battaglia ok poi fusion duplication questa tragettiamo la polimentazione normale quick pure una carta magia fusione normal quick che è nel cimitero la bandiamo e l'effetto di questa carta diventa quell'effetto non ti replica i costi ma come super poli non ti replica neanche il fatto che l'oppo non ti può attivare niente è risposto però diventa una carta veramente gigante trap track targettiamo mostro e controlliamo lo spacchiamo se lo facciamo settiamo una carta trappola normale dal deck eccetto trap track può essere attivata in questo turno e in più possiamo attivare soltanto un'altra trappola per il resto di questo turno dopo che questa carta si è risolta double walking e fa doppio il richiamo del posseduto first purchase of the year scaveniamo le prime 5 carte del deck dell'avversario se lo facciamo sciogliamo una di esse e dichiariamo un multiplo di 100 fino a un massimo di 3000 l'avversario può guadagnare quel multiplo di life points se lo facciamo noi prendiamo altrettanti lp se lo facciamo aggiungiamo la carta scelta nella nella nostra mano piazziamo il resto in fondo cioè nel top in qualsiasi ordine abbiamo finito questa epopea abbiamo finito questa epopea spero veramente che siate arrivati in fondo e che continuate a supportare questi contenuti detto questo ragazzi fatemi sapere voi cosa ne pensate ovviamente noi come sempre ci vediamo in un prossimo video e un saluto a tutti